Il servizio Infoatti del Consiglio regionale è un modo veloce per essere sempre informati sui disegni e le proposte di legge e di deliberazione, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. Dalla home page del sito crpiemonte.it è sufficiente aprire il menu per il cittadino, sezione strumenti per la partecipazione, cliccare su Infoatti, informazione sugli atti del Consiglio ed effettuare la registrazione seguendo le indicazioni.